Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi delle situazioni finanziarie di Milan e Roma ragazzi perché sono davvero in crisi economica, una per delle ragioni, una per altre ragioni, ecco e c'è invece chi è più in crisi e c'è chi è meno in crisi parliamo, iniziamo con quella più in crisi ragazzi, il Milan che è stato rinviato a giudizio dalla UEFA e adesso rischia anche di non giocare l'Europa League il prossimo anno, ecco se volete vi leggo questo articolo brevissimo, anzi faccio io stesso un riassunto di questo articolo che ho già letto precedentemente, dopo il voluntary, Neon nega anche il settlement, ovvero il patteggiamento il club rossonero va a processo e rischia sanzioni pesanti quali sono queste sanzioni? Stop al mercato, come è successo all'Atletico Madrid alcuni anni fa limitazioni della Rosa, una multa ovviamente e anche l'esclusione dall'Europa League del prossimo anno la decisione definitiva arriverà a metà giugno, Atalanta e Fiorentina in attesa perché Atalanta e Fiorentina? Perché ovviamente l'Atalanta in caso di esclusione del Milan dall'Europa League andrebbe a prendere il posto dello stesso Milan, quindi eviterebbe di giocare i preliminari a luglio mentre l'Atalanta invece prenderebbe il posto, la Fiorentina scusate, prenderebbe il posto dell'Atalanta e quindi si andrebbe a giocare i preliminari a luglio con la possibilità di accedere quindi ai gironi di Europa League e giocarsi la competizione europea che manca la squadra viola da 1-2 anni non voglio sbagliarmi sotto questo aspetto quindi ragazzi niente patteggiamento, è stato rifiutato il patteggiamento l'UEF ha rifiutato il patteggiamento del Milan ha negato questo settlement agreement dopo che pochi mesi fa aveva detto no anche al voluntary e adesso il club rosso-nero andrà a giudizio all'incirca a metà giugno quel giorno può succedere di tutto, scrive l'articolo i cinque giudici del consiglio hanno un ampio spettro di sanzioni applicabili fino all'estrema cioè l'esclusione dalle competizioni europee in questo caso addio Europa League con l'ingresso dell'Atalanta nei gruppi e della Fiorentina al secondo preliminare come vi ho detto poc'anzi c'è ancora uno spiraglio per la verità ma molto ridotto quindi ragazzi il Milan nella scorsa sessione estiva ha speso circa 250 milioni di euro vendendo poco quindi ricevendo pochi incassi il fatto è che poi tra l'altro nell'ultima sessione invernale non ha comprato nessuno dicendo che in realtà era gattuso a non voler acquistare nessuno questa è una grossa cazzata questa è una grossa cazzata in realtà è la società che ha gestito tutto e appunto ha rivelato informazioni inesatte informazioni false perché insomma perché gattuso non vorrebbe acquistare nessuno quando ha pareggiato col benevento settimane prima ha perso a Verona ha perso in casa contro l'Atalanta a pochi giorni prima dell'inizio del mercato perché non ha senso non ha senso è una società che ha divulgato notizie completamente false probabilmente con il consenso di Gattuso tutto qua perché ovviamente non poteva acquistare il Milan non poteva acquistare in quest'ultima sessione di mercato ma perché sta succedendo tutto questo? sta succedendo tutto questo perché ci sono tantissime incertezze troppe incertezze sul rifinanziamento che il Milan ha bisogno che non si è concluso e non si sa se e quando verrà concluso ci sono anche troppe incertezze sull'azionista di riferimento che in questo caso dovrebbe essere Mr. Lee questa figura ignota questo Mr. Lee che non si sa niente Elliot potrebbe essere un possibile azionista però la domanda è vuole diventare il nuovo proprietario oppure vendere a sua volta perché questa è la domanda diciamo da prendere in considerazione anzi da prendere in considerazione la risposta ecco e poi ci sono anche troppe incertezze sui ricavi futuri quindi stiamo parlando di un piano finanziario assolutamente incerto un piano finanziario assolutamente incerto quindi non è che la UEFA può prendere l'UEFA scusate può prendere in considerazione un piano finanziario così debole ecco un piano finanziario pieno di incertezze ed è per questo che appunto è stato rifiutato il voluntary prima di tutto e poi il patteggiamento quindi il settlement agreement successivamente insomma pochi giorni fa e vediamo che cosa succederà a metà giugno ecco vediamo quale sarà la decisione futura decisione definitiva che poi influenzerà anche il calciomercato e il diciamo i ritiri estivi di squadri come Atalanta e Fiorentina poi c'è la Roma la Roma che rischia di meno soprattutto rischia di avere meno sanzioni rispetto rispetto al Milan perché c'è stato questo aumento di capitale da 115 milioni che però non basta che però non basta ricordiamoci ragazzi che la Roma anche la Roma in quest'ultima sessione invernale non ha potuto praticamente acquistare nessuno anzi ha dovuto vendere un difensore come Hector Moreno che avrebbe fatto molto comodo in semifinale contro il Liverpool al posto di quella pippa di Juan Jesus e ha dovuto vendere a mio avviso il terzino sinistro più forte che aveva ovvero Emerson a circa 30 milioni al Chelsea campione d'Inghilterra perché ha vinto la FA Cup il Chelsea in finale contro il Manchester United di Mourinho non ha potuto acquistare nessuno tra l'altro doveva anche vendere Geko che alla fine non è stato venduto per ragioni che non conosciamo ecco beh per fortuna per la Roma che non è stato venduto però ragazzi a luglio senza calciomercato c'è il rischio crisi di liquidità ciò vuol dire che la Roma dovrà vendere prima di tutto dovrà vendere prima di acquistare semplicissimo e si sta già parlando di di Alisson e si sta già parlando di Geko così come nell'ultima sessione di mercato Alisson già al portiere del Real Madrid ecco una sessione a centrocampo ci sarà sicuramente ragazzi questo è poco ma sicuro una sessione a centrocampo si sta parlando di Pellegrini alla Juventus per 30 milioni Pellegrini che tra l'altro non vale neanche 30 milioni a dire la verità ecco ne varrebbe massimo 15 però se non arrivasse un'offerta di circa 20-30 milioni per Pellegrini secondo me la Roma ragazzi venderà Nainggolan un po' come è successo con Pjanic sarà una sessione improvvisa una sessione improvvisa una sessione possiamo dire inevitabile di Nainggolan se appunto arrivasse un'offerta di 40 milioni o qualcosa di simile ecco secondo me succederà questo secondo me succederà questo comunque fatto sta che la Roma deve vendere la Roma deve vendere prima di acquistare e questo è sicuramente una beffa è una beffa per i tifosi della Roma che avevano la possibilità di vedere la squadra migliorare diciamo sotto l'aspetto dell'organico e questo purtroppo non può succedere perché appunto l'aumento capitale da 115 milioni di euro che è arrivato il 21 di maggio ovvero pochi giorni fa non basta a diciamo risanare il fair play finanziario che è stato completamente buttato nel cesso dalla società giallorossa l'anno scorso e niente quindi ragazzi Milan e Roma rischiano tra l'altro io non capisco perché i media fanno dicono delle stronzate tanto grosse come il Milan che vuole acquistare immobile la Roma che vuole acquistare cristante ragazzi la Roma non può acquistare cristante perché ancora non ha venduto nessuno e il Milan non può acquistare immobile perché è in una situazione finanziaria distruttiva il Milan è in una situazione finanziaria economica distruttiva quindi è inutile che sparate e cazzate voi dai media il Milan non può acquistare immobile perché non può spendere più di 20 milioni in questa sessione di calcio mercato se non risolve appunto i problemi finanziari idem per la Roma idem per la Roma perché la Roma deve prima vendere poi acquistare poi se ci riesce acquistare e vediamo appunto come come progredirà la situazione ecco nei prossimi mesi nelle prossime settimane e vediamo la decisione dell'UEFA a metà giugno riguardo appunto alla società rossonera ma ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti mettete un like se questo video vi è piaciuto ragazzi iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video ciao